L'aumento dei contagi da coronavirus ha causato il ricorso a misure più restrittive da parte del governo. Tra le categorie più colpite, le associazioni sportive e dilettantistiche, che tornano a chiudere i battenti. Io vivo di danza e il grido di protesta del bitontino Gaetano De Palo, proprietario della Team Dance Bari. La rabbia per lo stop alle sue lezioni di danza è tanta. Siamo tanto arrabbiati perché abbiamo lottato tanto per mettere tutto in sicurezza. Ora che ci stavamo risollevando nuovamente, improvvisamente il governo ha deciso di chiuderci. In realtà non c'è un dato scientifico che attesti un aumento di casi all'interno delle palestre o delle associazioni sportive e dilettantistiche. E quindi non vedo il motivo per cui il governo decida, insomma, improvvisamente di chiuderci. Alle difficoltà causate dal primo lockdown se ne aggiungono altre. L'impegno per ripartire e rispettare le norme anticontagio non è bastato. Io ho due sedi, a Palombaio e a Bitonto, e quindi ci sono tante spese da sopportare. Ovviamente questo richiede un ulteriore sacrificio. Come rialzarsi dopo questo ulteriore colpo? Al momento poche sono le certezze e la speranza è quella di ripartire presto e che il governo possa dare ulteriori aiuti. Il ministro Spadafura, almeno nell'ambito dello sport, ha dato dei piccoli sovvenzionamenti. Hanno aiutato comunque le nostre strutture, ma sicuramente non possono fare miracoli. Chiediamo semplicemente di poter lavorare, di poter trasmettere la nostra passione, ovviamente rispettando tutte le misure di sicurezza. Pronto ad ascoltare Gaetano il sindaco Michele Abaticchio, che ha già lanciato la sua proposta di tenere delle lezioni all'aperto. Ritornare a danzare è importante perché aiuterebbe a trovare luce in un momento buio come questo dettato dall'emergenza sanitaria. È importante restare aperti perché aiuta innanzitutto dal punto di vista anche psicologico, aiuta comunque a socializzare e aiuta anche a noi stessi perché noi viviamo di questo.